Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop, trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un caso che ahimè ricordo benissimo, forse lo ricordo anche troppo bene. Ne stavo giusto riparlando con mio padre e credetemi lui di cronaca nera non è che ne sappia molto, ma appena ho nominato la coppia dell'acido mi ha guardato e mi ha detto, ma chi, quelli di Milano? Credo che questa storia in qualche modo ci sia rimasta dentro e non oso immaginare come i milanesi in quel periodo abbiano vissuto questa situazione. Ho riflettuto tantissimo su questo caso prima di portarvelo. Mi sono chiesta se sfigurare qualcuno con l'acido sia peggio di un omicidio. Non mi sono data una risposta precisa, forse perché una risposta precisa non la so individuare neanche io. Ma pensateci un attimo, state uscendo di casa, qualcuno vi sta aspettando appena dietro l'angolo, ma voi non lo sapete. Camminate tranquilli fino a quando non vedete per un microsecondo un soggetto che vi lancia in faccia qualcosa, un liquido, di colpo non vedete più. Sentite un bruciore immenso, vi strappate via i vestiti, correte, chiedete aiuto. Poi inizia il calvario, la guarigione e le miglia operazioni per riuscire a ricostruire la vostra faccia, perché è quella che vi hanno portato via. E se vi portano via la faccia, vi portano via anche l'identità. Se vi portano via la faccia, vi cambiano la vita irrimediabilmente. No, non c'è un omicidio in questa storia, ma tutte le aggressioni messe in atto da Alexander Butcher e da Martina Levato sono terribili. Sono proprio loro la coppia dell'acido, ma andiamo con ordine, come al solito. Siamo a Milano, ed è il 2014. Pietro Barbini, nei giorni precedenti a Natale, viene contattato più volte da un sedicente corriere, che deve consegnargli un pacco regalo. Questo corriere dice a Pietro di presentarsi la sera del 28 dicembre, in via Giulio Carcano, a Milano. Quel ragazzo però sente che c'è qualcosa che non va in queste chiamate. Ha una brutta sensazione, non si sente tranquillo. Chi mai gli avrebbe fatto un regalo? Ma non ne ha proprio idea. Pietro, dunque, chiede a suo padre di accompagnarlo con la macchina in via Giulio Carcano, perché, insomma, non si sente al sicuro. Il padre di Pietro, che di nome fa Gerardo, accetta di accompagnare suo figlio. Quindi, entrambi salgono in auto per raggiungere via Giulio Carcano. Il padre, dunque, lascia suo figlio davanti al palazzo in cui gli hanno detto di recarsi. Pietro, quindi, si avvicina all'ingresso del palazzo e cerca tra i citofoni il nome della ditta di spedizioni. Ci resta anche qualche minuto lì Pietro, perché proprio non riesce a trovare il nome di questa ditta. Il padre di Pietro, Gerardo, nel frattempo va a posteggiare la macchina, non troppo lontano da lì. E vede chiaramente due figure incappucciate che si recano verso suo figlio. Sono un ragazzo e una ragazza e la ragazza stringe in mano dei contenitori. Si avvicina dunque a Pietro, lo chiama, lo fa voltare e poi gli lancia addosso qualcosa. Il ragazzo si porta immediatamente le mani al volto. Il padre di Pietro, quindi, Gerardo, esce dalla macchina e corre incontro a suo figlio. Cosa diavolo gli hanno lanciato in faccia? Dovete sapere che in questa situazione Pietro ha in tasca ben due cellulari. Uno è suo, l'altro è quello di sua madre. E quest'ultimo telefono, in qualche modo, riesce a registrare tutta l'aggressione. Si sente chiaramente il povero Pietro che dice al padre urlando Papà, papà, non so cosa sia, non so cosa sia, ma tu corri! Poi di colpo lo sale un bruciore terribile. E quindi Pietro rincomincia. Corri papà, corri, ti prego, è acido! Si sente anche la voce del padre di Pietro che ribatte, è acido? Pietro continua a correre e non si ferma esclamando Corri papà, corri, ti prego! Sente un dolore atroce, inizia a svestirsi, gli fanno male gli occhi. Contemporaneamente ecco che interviene un'altra figura. Gli si avvicina alle spalle, è un uomo alto e possente e in mano stringe un martello. Lo insegue, prova a colpirlo, ma il padre di Pietro gli si lancia letteralmente addosso, atterrandolo. Quando riesce a immobilizzarlo, urla Aiutatemi! Polizia! Polizia! Vi prego! I pochi passanti che hanno assistito alla scena non ci pensano due volte. Si mettono addosso a quel ragazzone grande e grosso che impugna quel martello. Intanto la centrale operativa della questura di Milano suona il telefono. Qualcuno segnala un'aggressione ancora in corso in via Carcano. Gli inquirenti dunque non perdono tempo, si mobilitano e raggiungono immediatamente il posto. Le autorità, arrivate in via Carcano, notano più soggetti intenti a immobilizzare qualcuno. È un ragazzo che ha con sé un martello. Quel ragazzo si chiama Alessandro Butcher, detto Alexander. Viene quindi portato in questura e tratto in arresto poco dopo. Intanto a terra continua ad esserci il pavero Pietro. Si alza fatica, entra in un bar, prova a sciacquarsi la faccia. Poi, finalmente, giunge l'ambulanza. Viene portato al reparto dei grandi ustionati del Niguarda. E, fin da subito, le sue condizioni appaiono molto gravi. Pietro ha ustioni sul viso, sulle braccia e sulle gambe. Ma chi è Pietro? Pietro Barbini è un ragazzo di 23 anni. È uno studente brillante e di buona famiglia. Frequenta un master a Boston. Ed è tornato in Italia, proprio sotto Natale, per passare le feste con i suoi genitori. Pietro è un ragazzo solare, simpatico, genuino. E ora è in quell'ospedale, in condizioni gravissime. È irriconoscibile Pietro. E non vedrà mai più bene da un occhio. Quando Alexander viene arrestato e portato in questura, Pietro, ovviamente, lo viene a sapere. E dice suo padre Gerardo che Martina Levato, una sua compagna di classe del liceo con cui aveva avuto un rapporto, l'aveva proprio contattato qualche mese prima, dicendogli che stava insieme a questo Alessandro, detto Alexander. Pietro e Martina si sono conosciuti a scuola e hanno avuto un brevissimo flirt. Poi si sono rincontrati successivamente e hanno avuto un rapporto intimo. Solo uno. In una discoteca. Non vi metto in evidenza questo aspetto perché io sia una puritana e trovi Martina disgustosa perché ha avuto un rapporto in discoteca. No! Attenzione! Il punto qui è che è avvenuto una sola volta. Una! In questo modo, comunque, Pietro riesce a collegare Alexander a Martina Levato. Martina, dunque, viene condotta in questura e chiaramente da una versione che non si sposa affatto con quella di Alexander. La svolta per gli inquirenti arriva quando il padre di Pietro Barbini, ossia Gerardo, uscendo dalla questura, riconosce chiaramente Martina. È stata lei a lanciare addosso a suo figlio l'acido. Ne è sicuro? La ragazza, infatti, viene proprio arrestata quella notte. Ma chi è Martina Levato? Ebbene, la ragazza è una studentessa della Bocconi. Ed è figlia unica, quindi i suoi genitori hanno fatto mille sacrifici per farla studiare. Da qualche mese sta con Alexander, un ragazzo totalmente diverso da lei. Alexander è sposato con una modella croata, ma si sono lasciati. È un ragazzo che va molto in palestra, assume anabolizzanti. Infatti è molto attento al suo fisico, ma non solo, è anche molto attento ai soldi. Alexander fa il broker. Sentita dagli inquirenti, Martina decchiara che Pietro la disturbava sia per messaggio tramite telefono, sia su Facebook, su Messenger. In realtà, andando a controllare quella chat, si può vedere Pietro che manda delle foto a petto nudo e Martina che ricambia, inviando altrettante foto. Per Pietro effettivamente quel flirt è una cosa leggera. Lui è a Boston, sta studiando. Quindi diciamo che Martina non occupa proprio il primo posto nei suoi pensieri. Anzi è tutt'altro. Per Martina forse quelli sono dei messaggi più importanti? È probabile. E peraltro quei messaggi danno incredibilmente fastidio ad Alexander, il suo nuovo fidanzato a cui racconta tutto. La coppia quindi sembra aver agito per punire in qualche modo Pietro Barbini. Intanto le autorità si recano a casa di Alexander per effettuare una perquisizione. E in men che non si dica trovano numerosi flaconi di acido muriatico. Un grosso martello, dei bisturi, armi da taglio di vario genere, spray a peperoncino, felpe col cappuccio, baffi finti e parrucche. Nasce una domanda più che ovvia. Che cosa ci faceva Alexander con tutto quell'armamentario in casa sua? Martina e Alexander vengono incriminati per il reato di lesioni aggravate a scopo intimidatorio. E vengono processati per direttissima all'8 gennaio del 2015. In questo caso Martina si dichiara colpevole e difende a spada tratta il suo compagno Alexander. Lui in realtà non ha fatto proprio niente. Durante il processo la coppia in aula appare indivisibile. La prima cosa che salta all'occhio è lo sguardo d'intesa che c'è tra i due. Poi si nota al loro labiale che mima la parola ti amo. Ma soprattutto la frase che a mio parere ha molto significato per questo caso è la seguente. Ci siamo solo noi due, io non ti lascio sola. Alexander e Martina in pratica non vedono niente del mondo circostante. Per l'appunto ci sono solo loro contro tutto e tutti. Gli inquirenti comunque continuano ad indagare ed è a questo punto che c'è un colpo di scena decisivo. Emerge una figura amica della coppia, più precisamente un complice. Il 32enne Andrea Magnani. Lui fa il bancario e conosce Martina. Dovete sapere che quando Martina viene arrestata e quindi interrogata dai carabinieri prova a crearsi un alibi per la notte in cui è avvenuta l'aggressione ai danni di Pietro. Agli inquirenti in realtà dice che lei non poteva essere in via Carcano perché era a casa proprio di Andrea Magnani. Quest'ultimo viene immediatamente convocato per confermare l'alibi di Martina. E Andrea l'alibi di Martina lo conferma anche. Il fatto è che gli inquirenti a un certo punto guardandogli le mani notano delle strane bruciature. Gli chiedono dunque spiegazioni e Andrea sostiene di essersi fatto male mentre faceva dei lavori di ristrutturazione. Ovviamente nessuno dei poliziotti presenti ci crede. È chiaro il modo in cui Andrea si sia procurato quelle ferite. E per le autorità a questo punto diventa lampante. Quell'uomo nasconde qualcosa. Gli inquirenti dunque lo convocano più volte e Andrea Magnani non è certo un esperto. Non sa come gestire una quantità così massiccia di interrogatori in così breve tempo. Quindi ad ogni convocazione cambia la sua versione. È chiaro che Andrea sia nel panico. Non sa cosa diavolo dire. Di conseguenza inizia a inventarsi delle scuse davvero, davvero improbabili. La pressione che subisce Andrea giustamente dagli inquirenti alla fine lo porta a confessare. Andrea Magnani dice che durante l'aggressione ai danni di Pietro era presente. Ma era convinto insomma che Alexander e Martina volessero spaventarlo. Mica a sfigurarlo con l'acido. Quando gli inquirenti gli chiedono cosa indossasse quella notte Andrea risponde che indossava un giubbotto giallo. E in effetti viene anche ripresa da una telecamera di videosorveglianza di via Carcano dove corre lungo il marciapiede la sera del 28 dicembre 2014. Viene dunque arrestato anche lui con l'accusa di complicità per aggressione aggravata ai danni di Pietro Barbini. Ma Pietro Barbini non è l'unica vittima della coppia dell'acido. Gli inquirenti ancora non sanno nulla del rapporto che lega Alexander e Martina ai loro crimini. Il processo per direttissima solitamente dovrebbe concludersi con una sola udienza. E invece questo processo va avanti per ben due mesi. Se Alexander e Martina vengono dichiarati colpevoli per lesioni gravissime e condannati a 14 anni di reclusione. Pietro Barbini inoltre ottiene un risarcimento di oltre un milione di euro. La verità però qui è un'altra. Siamo solo all'inizio di questa assurda storia. Le autorità devono capire come si siano conosciuti o meglio come si siano rivisti Alexander e Martina. I due già si conoscevano perché erano stati in classe insieme durante il liceo. Alexander e Martina dunque si rivedono in discoteca nel 2013. È vero, Alexander è ancora sposato ma con sua moglie le cose non vanno affatto bene. A lui piace andare a ballare in discoteca. Il ragazzo però non ama frequentare discoteche qualsiasi bensì frequenta le discoteche in cui si balla il latinoamericano. Ovviamente durante queste serate incontra e conosce varie ragazze e incontra nuovamente anche Martina. La relazione con Martina continua per quasi un anno e i due non sono fidanzati, fanno solo cose assieme. Dopo circa un anno però le cose cambiano. I due sono a casa di Martina, hanno passato la notte insieme e Martina se ne esce fuori all'improvviso dicendo ad Alexander Sai io vorrei 5-6 figli da te. Alexander li per li si ritrae. È vero, si conoscono da un po' ma non hanno mai parlato della loro relazione in termini amorosi. Di conseguenza questa richiesta di Martina lo fa vacillare. Le dice che non è il momento, che deve finire gli studi. Per Alexander questo modo per dire a Martina Guarda, non ti amo, quindi da te un figlio non lo voglio. E fin qui direi che la situazione è chiara, limpida e cristallina. Il punto preoccupante sta nel fatto che appena Alexander esce da casa di Martina e inizia a riflettere sul suo desiderio di maternità si rende conto così di colpo di essere innamorato di lei e di volere un figlio. Verso la fine di aprile dunque Alexander e Martina si mettono insieme. A questo punto sono ufficialmente una coppia. Quando Martina ed Alexander mettono in atto l'aggressione contro Pietro Martina è già in dolce attesa. Aspetta già un bambino. Ma emerge anche dell'altro. Infatti come vi ho detto poco prima Andrea Magnani, il complice della coppia è quello che ha vuotato il sacco prima di tutti. Agli inquirenti infatti l'uomo comincia a raccontare fatti antecedenti all'aggressione ai danni di Pietro Barbini. E' avvenuto a dicembre ma la verità è che la coppia dell'acido non ha colpito solo lui. Non ha sfigurato solo lui. Ci sono altre due vittime che la coppia ha colpito prima di Pietro. Gli inquirenti a questo punto cominciano a tessere una trama all'incontrario. Dunque anche noi facciamo un balzo indietro. Torniamo al 2 novembre del 2014. La vittima è Stefano Savi. Stefano è un gran bravo ragazzo. Ha 25 anni. Ama divertirsi, va spesso a ballare ed è un universitario. Studia alla Bicocca Economia. Stefano abita nel quartiere Quarto Cagnino a Milano. La sera del 2 novembre il ragazzo esce con i suoi amici. E' una compagnia molto unita quella di Stefano e tutti i suoi amici si vogliono un gran bene. Quella sera tutto procede come al solito. Non c'è niente di diverso rispetto alle altre uscite degli altri weekend. Il ragazzo quindi va a bere qualcosa e poi con la sua compagnia va in discoteca. Arrivano le 5 del mattino ed è Stefano ad accompagnare a casa alcuni dei suoi amici arrivando sotto casa sua alle 5.20. Stefano quindi scende dalla macchina. Si dirige verso il cancello e lo apre per poter entrare e parcheggiare la macchina. Poi di colpo sente qualcuno che sta camminando dietro di lui. Si gira distinto e vede chiaramente una persona che gli lancia in faccia qualcosa. Stefano prova a colpire quella persona ma si rende conto di non vedere più quasi nulla. Il viso gli brucia terribilmente quindi si lancia nel suo giardino, strappa dell'erba e prova a passarsela sugli occhi col fine di ripulirsi un minimo e tornare a vedere qualcosa ma non ce la fa. Quindi si alza e in qualche modo fa le scale esterne di casa sua per chiamare i suoi genitori. Bussa la porta, suona il campanello e a un certo punto i suoi genitori ovviamente li aprono e appena si trovano davanti Stefano si preoccupano da morire. Quello non è loro figlio, è irriconoscibile. Ha la faccia totalmente nera, le mani sono nere, inizia a gonfiarsi ed emana davvero un odore molto molto strano. Stefano quindi entra in casa e chiama un amico che gli consiglia di andare al centro Grandi Ostioni a Niguarda per fare una valutazione dei danni che ha subito. In questo caso però il liquido utilizzato non è solo acido, è di colore nero, oleoso ed è così tanto corrosivo da danneggiare anche la carrozzeria della macchina di Stefano. Nella zona purtroppo non ci sono telecamere che possano chiarire le dinamiche dell'aggressione ma soprattutto questa aggressione rimane senza movente. Stefano non ha idea di chi possa avergli fatto questo. Intanto al Niguarda Stefano non vede più, ha un orecchio completamente sciolto così come una parte del naso. I medici a me li dicono che non c'è molto da fare, l'ustione è così tanto estesa e profonda. Insomma non sanno neanche loro se riusciranno a tamponare in qualche modo la situazione. In ospedale l'iter chirurgico di Stefano non è solo lungo ma è anche complesso. Su di lui viene utilizzata una pelle artificiale chiamata Integra. Poi si sottopone ad un trapianto di pelle che dura nove ore. Come già vi ho spiegato gli inquirenti hanno capito che Pietro Barbini è stato aggredito e quindi sfigurato perché era l'ex ragazzo tra mille virgolette di Martina. Ma perché Stefano ha subito questo trattamento? Lui neanche la conosce Martina, non sa neanche chi sia, non l'ha mai vista. Peraltro i genitori di Stefano continuano a chiedergli per mesi se per caso ha fatto del male a qualcuno, ha fatto un torto a qualcuno. E quando lui risponde che non ha fatto mai nulla per meritarsi un trattamento simile le persone che gli stanno attorno non smettono di ipotizzare che invece qualcosa di brutto Stefano l'abbia fatto e come. Deve per forza aver fatto qualcosa, altrimenti questa aggressione rimarrebbe inspiegabile. La verità è che Stefano Savi davvero non ha mai fatto nulla di male a nessuno. E questa aggressione non rimarrà lungo un mistero. Inoltre c'è un altro fatto da non sottovalutare. Stefano è un fratello gemello di nome Luca. Stefano dice che in realtà tutta questa somiglianza non c'è. Ed è vero, Stefano e Luca non sono perfettamente identici. Ma quanto può essere doloroso vedere in tuo fratello quello che eri prima di aver subito questa aggressione? La procura inizia a scandagliare tutte le utenze telefoniche sia di Stefano che dei suoi amici. Indagano anche sulle frequentazioni che Stefano ha in discoteca, ma non emerge nulla. E l'aggressione ai danni di Stefano per almeno un paio di mesi rimane congelata. Non ci sono indizi, non ci sono piste. O è però ecco che torna Andrea Magnani che fa altre tante dichiarazioni. L'uomo racconta che tra il 10 e il 20 ottobre, lui, Martina ed Alexander, si sono recati a fare delle spedizioni in una discoteca di Milano chiamata Il Divina. Cercano un ragazzo che ha avuto con Martina un fugace incontro in discoteca. Quindi in effetti i tre si dirigono a Il Divina per cercare un bersaglio ben preciso, che però non c'è. In quelle notti al Divina invece c'è Stefano Savi, che per uno scherzo del destino è terribilmente simile all'obiettivo del trio. Questo vuol dire che Stefano è stato vittima di uno scambio di persona. Questa è la verità. Finalmente tutti tirano un sospiro di sollievo. Tutti, tranne Stefano. Quel ragazzo ha sempre saputo di non aver fatto mai nulla di mano a nessuno. Di conseguenza neanche si stupisce più di tanto. A questo punto sorge una domanda. Se l'aggressione a Stefano Savi è frutto di un errore, chi è il vero obiettivo della coppia? Riescono a colpirlo? A sfigurarlo? Il ragazzo che ha in effetti conosciuto Martina si chiama Giuliano Carparelli. E in effetti sì, ci ha avuto a che fare. Per una sera. Giuliano racconta che una sera è con i suoi amici al Divina. E sono tutti nel privé, quindi hanno preso un tavolo. Ad un certo punto della serata un gruppo di ragazze, tra cui Martina, si avvicinano e chiedono di entrare nel loro privé per bere un drink. A Giuliano e ai suoi amici va più che bene. Le ragazze dunque si siedono, bevono qualche drink e tra una cosa e l'altra si ritrovano a ballare insieme. E Giuliano, quella sera, balla proprio con Martina. Si baciano una volta. Escono dalla discoteca per fumare una sigaretta. Si scambiano due fusioni, poi rientrano in discoteca e continuano a far serata. I due non si incontrano più dopo quella sera. Giuliano Carparelli fa il fotografo e grazie al suo lavoro gira il mondo. In questo caso l'aggressione del ragazzo è molto simile a quella subita da Pietro Barbini. Giuliano è a Parigi, su un set fotografico, sta lavorando. Quando l'agente italiana del fotografo per cui lavora lo chiama. Questa assistente dice a Giuliano che gli ha contattati un giudice, dicendo che stanno cercando il suo contatto telefonico e il suo indirizzo. Giuliano quindi si fa dare il numero di questo giudice e chiama lui stesso. A rispondergli è una ragazza che si presenta come l'assistente del giudice. Inutile dirvelo, quella non è l'assistente di nessun giudice. Quella è Martina Levato. Dice a Giuliano che hanno fatto dei finti finanziamenti elettorali a suo nome. Quindi dovrebbe semplicemente firmare dei documenti per attestare che lui non c'entra nulla. Giuliano ovviamente risponde dicendo che non c'è alcun problema. Ma sarebbe rientrato in Italia solo il 14 novembre. Quindi solo da quel giorno avrebbe potuto firmare questi documenti. Arriva dunque il 15 novembre, Giuliano è rientrato in Italia la sera prima. E quella mattina del 15 novembre a Milano piove a dirotto. Giuliano dice addirittura che non è un tipo di ombrello. Non è solito portarselo dietro perché lo trova davvero ingombrante. Piuttosto si prende alla pioggia. Quel giorno però deve recarsi in palestra. E se non prendesse l'ombrello arriverebbe fradicio. E dovrebbe allenarsi completamente bagnato. Il ragazzo quindi miracolosamente quella mattina prende un ombrello ed esce di casa. Quando apre il portone vede chiaramente una ragazza che sta vicino al citofono. È incappucciata ed ha un grosso cerotto sul naso. Giuliano riesce solo a vedere gli occhi di quella ragazza. E quella ragazza è proprio Martina. Martina dal canto suo non si aspetta di vedere Giuliano uscire di casa. Ma soprattutto Giuliano la guarda immediatamente. E la ragazza è solita cogliere le sue vittime alle spalle. A questo punto Giuliano grazie a quel dannato ombrello riesce a proteggersi. Appena vede che la ragazza ha in mano una specie di borraccia che sta aprendo per versargli addosso qualcosa. Apre l'ombrello parando completamente l'acido. Giuliano ha ancora l'ombrello davanti alla faccia. Quando sente il contenitore che aveva in mano Martina cadere per terra. Chiude quindi l'ombrello e nota che quella ragazza ha semplicemente girato i tacchi. Sta cercando di allontanarsi da lui più in fretta possibile. Giuliano però decide di attraversare la strada e di seguire quella ragazza dall'altro lato del marciapiede. Nascondendosi dietro le macchine. Quindi Martina si gira e guarda dietro di sé in continuazione ma non nota nessuno che la segue. Quando Martina si ferma davanti a quella che presumibilmente è la sua auto o se è una grande puntonera. Giuliano le va incontro. Si avvicina e le chiede spiegazioni. Chi sei? Cosa vuoi da me? Domanda Giuliano. Ma Martina non risponde. Estrae invece dello spray al peperoncino e prova a spruzzarglielo in faccia. Giuliano di nuovo fa in tempo a indietreggiare. Quindi estrae a questo punto il telefono e inizia a fare un video a quella ragazza. Lei va verso di lui e continua a spruzzargli lo spray. Lui indietreggia e nel frattempo continua a riprenderla con il telefono. Fino a quando da dietro non si palesa qualcun altro che gli spruzza altrettanto spray al peperoncino da dietro sul collo. Giuliano si gira e vede davanti a sé un uomo alto circa un metro e novanta, già pronto a inseguirlo con un altro spray al peperoncino. Al che Giuliano capisce che forse è il caso di scappare. Comincia dunque a correre e purtroppo perde il cellulare che aveva in mano. Subito dopo l'accaduto l'unica cosa che resta in Giuliano è la confusione. Perché hanno provato a sfigurarlo? Ma soprattutto chi ha provato a sfigurarlo? Il ragazzo chiama tutte le sue ex per sincerarsi che vada tutto bene e che non ci sia alcun astio rancore represso. Ma alla fine neanche Giuliano riesce a spiegarsi il motivo di questa tentata aggressione. Inoltre teme a ragion veduta che possano tornare a colpirlo. Quindi inizia a guardare tutti come ipotetici nemici. Diventa estremamente paranoico, non riesce più a vivere tranquillo, ha perennemente l'ansia perché in effetti non sa quante siano le persone che vogliono fargli del male. L'unica persona di cui Giuliano si fida sono i suoi amici e infatti per un periodo non dice a nessuno dove dorme. Non sta più a casa sua bensì va ospite da dei suoi amici. Cambiando casa ogni giorno. Giuliano si sposta in continuazione proprio per non farsi scoprire. Esce di casa col casco integrale, sale in macchina, si toglie il casco, va a lavoro e infine va da qualche suo amico a passare la notte. Si sente in un videogioco di sopravvivenza perché è così che vive. Dopo questo colpo fallito però la coppia non demorde. I vicini di casa descrivono veri e propri appostamenti nei pressi della casa di Giuliano. Tutti li descrivono come persone strane, camuffate, con addosso delle parrucche. Dopo qualche mese Giuliano non riesce più a vivere in questo modo. Si sente soffocare, non può andare avanti a condurre una vita del genere. Decide quindi di partire, va in Polinesia, continua a fare il fotografo e rimane là in attesa di buone notizie. Degli amici infatti un paio di mesi dopo lo chiamano dicendogli leggi giornali sono stati arrestati, si chiamano la coppia dell'acido. A questo punto Giuliano dalla Polinesia chiama un suo conoscente che fa il poliziotto per dirgli che secondo lui le persone che lo hanno aggredito sono proprio quelle che hanno tratto in arresto poco tempo prima. La polizia dunque dice a Giuliano di tornare in Italia per rilasciare la deposizione sulla sua versione dei fatti. Peraltro Giuliano era riuscito a vedere buona parte della targa della Fiat 1 nera. La polizia dunque indaga e ricollega quella macchina ad Andrea Magnani. Quindi la polizia effettua una perquisizione nell'autovettura e nella casa di Andrea Magnani. Ed è a questo punto che le autorità si rendono conto che i tappetini di quella macchina sono tutti rovinati, sono corrosi proprio dall'acido. Quindi gli inquirenti a questo punto hanno in mano diversi indizi. Stefano Savi è stato scambiato con Giuliano. Giuliano così come Pietro ha avuto dei trascorsi con Martina. Ovviamente niente di serio, solo qualche fugace incontro in discoteca e qualche bacio. È così che gli inquirenti scoprono l'assurdo piano di Alexander e Martina. Le ex fiamme di Martina sono state colpite in una logica di purificazione ben precisa, per quanto assurda, in attesa di mettere al mondo un figlio. Ma mi spiego meglio. Martina Levato di certo non si era mantenuta a caste pura per Alexander. Aveva avuto altre storie. Era stata con altri ragazzi. Dunque, se lei voleva avere un figlio da lui, avrebbe dovuto eliminare, dissolvere tutti i ragazzi con cui aveva avuto a che fare prima di lui. Ma torniamo ancora più indietro perché le aggressioni con l'acido hanno avuto ahimè un drammatico precedente. È il 19 maggio del 2014 e Martina contatta uno studente, Antonio Margarito, con cui aveva avuto un breve flirt l'estate precedente. E gli chiede se per caso ha voglia di farsi un giro con lei. Anche Antonio proviene da una buona famiglia, è originario della Puglia, ma si è trasferito a Milano per studiare, come tante altre persone. Antonio a Milano studia e lo fa davvero. Ha ottime compagnie, ogni tanto esce, ma non esagera mai. Conduce tutto sommato una vita tranquilla, non troppo movimentata, proprio perché il suo obiettivo è quello di studiare e laurearsi. Dunque, la sera del 19 maggio, Martina va a prendere Antonio sotto casa sua con la sua macchina. Escono, bevono qualcosa e poi si appartono in zona Ripamonti, che si trova nella periferia di Milano. Martina a questo punto cambia atteggiamento e con fare malizioso dice ad Antonio «Ciudi gli occhi, ho una sorpresa per te». Antonio dunque si rilassa e chiude gli occhi aspettando la sorpresa di Martina. Quest'ultima però estrae un coltello con cui cerca di virarlo. Il ragazzo ha fortunatamente dei riflessi pronti, quindi riesce a proteggersi, a ripararsi. E Martina, alla fine, lo ferisce alla mano e alla coscia. A questo punto Antonio scappa e la prima cosa che fa è recarsi all'ospedale per andare a farsi curare. Intanto però Martina chiama le forze dell'ordine e denuncia Antonio per tentata aggressione intima. In questo momento quindi Antonio è terribilmente spaventato principalmente per due motivazioni. La prima è sicuramente l'orribile accusa di aggressione intima. In una situazione in cui quello aggredito era lui, ma soprattutto anche Antonio non riesce a spiegarsi l'aggressione. Come e perché sta accadendo proprio a lui? Antonio passa dei mesi con l'accusa di violenza sulle spalle. Poi il tutto viene collegato al contesto degli agguati perpetrati dalla coppia dell'acido e da Andrea Magnani. L'incubo di Antonio arriva a conclusione nel settembre del 2015, quando viene accertata l'infondatezza delle accuse di violenza da parte di Martina. È così che finalmente la figura di Antonio cambia, non è mai stato un carnefice, ma una vittima. È sempre stata una vittima. Intanto per l'aggressione a Pietro Barbini arriva anche la sentenza di appello di condanna. Martina ottiene uno sconto di pena di due anni, mentre la pena per Alexander viene confermata a 14 anni. Nel frattempo però vengono istruiti nuovi processi per le aggressioni a Stefano Savi, a Giuliano Carparelli e ad Antonio Margarito. Qui le strade degli imputati si dividono. Alexander sceglie il rito ordinario, mentre Martina e Andrea Magnani scelgono il rito abbreviato. Dai computer di Alexander, le consulenti informatiche di parte trovano dei file di backup del cellulare del ragazzo. Tra i tanti file sono presenti dei video con protagonisti Alexander e Martina che lasciano tutti davvero senza parole. In un video si vede Alexander che scarnifica all'interno della coscia di Martina con un bisturi in modo da formare l'iniziale del nome Alexander. Ma non è finita qui. Alexander scarnifica anche la pelle della guancia di Martina, disegnando anche in questo caso una... Le occupa mezza faccia quella scarnificazione. In un altro video Alexander obbliga Martina a bere qualcosa. Inizialmente non si capisce cosa sia, poi però si sente Alexander che dice Bevi, è il piscio di un dio! Infine c'è un ultimo video in cui si vede Alexander tirare il collo ad una gallina. Ma perché l'ha fatto? Il ragazzo ha spiegato successivamente che quella era una specie di prova per allenarsi a perdere l'empatia. Solo in questo modo sono poi riusciti a colpire, a sfregiare altri esseri umani senza mai provare alcun rimorso. Martina, agli occhi di Alexander, possiede tutte le caratteristiche che ricerchino una donna, devozione e adorazione. Martina Levato a questo punto è incinta e si vede. Proprio in vista del processo di Stefano Savi, rilascia un memoriale in cui scarica su Alexander la piena responsabilità morale di quelle aggressioni. È vero, lo tirava lei l'acido, ma ha davvero ordito questo piano folle e criminale? È stato Alexander. Alexander l'ha manipolata col fine di farle commettere quelle azioni. Martina quindi diventa la principale accusatrice di Alexander. Lei che inizialmente si era addossata alla colpa per tutto. Martina ammette di essere vittima di dipendenza affettiva e di manipolazione. Alexander, di tutta risposta, inizia ad accusare Martina. È lei la mente che ha orchestrato il piano. Era lei che voleva compiere quelle azioni per lui, anche al punto di finire in galera per lui. Lui però con quella storia proprio... non c'entra nulla. Insomma, la coppia granitica che parlava di nascosto, con l'abiale al processo di primo grado, non c'è più. Ma qual è il ruolo di Andrea Magnani in tutto questo? Ebbene, Andrea Magnani è colui che si sposta. È colui che scarrozza Alexander e Martina in giro, col fine di compiere queste aggressioni. È lui che fa i mix chimici che poi Martina lancia in faccia alle vittime. Quindi Andrea è una parte attiva nell'organizzazione delle aggressioni. Ma chi è Andrea Magnani? Ebbene, Andrea Magnani è un uomo che conduce una vita molto semplice, molto lineare. Ha un lavoro in banca ed è sposato con una donna di cui non si sa nulla. Andrea però di qualcosa è insoddisfatto, non sopporta il suo fisico. Vorrebbe riuscire a dimagrire, ha provato innumerevole diete, ma non è mai riuscito a raggiungere alcun risultato. Ed è qui che entra in scena Alexander. A far conoscere i due è Martina, quindi Andrea inizia ad allenarsi con Alexander. In realtà il ragazzo gli fa proprio da personal trainer, sottoponendolo a degli esercizi estenuanti. Ma non è finita qui. Alexander dà anche una dieta rigidissima ad Andrea, che deve riuscire a mantenere. Niente sgarri, eh? Spesso gli fa addirittura saltare la cena con la scusa del andiamo a correre assieme. Quindi talvolta Andrea neanche mangia, perché rientra in casa che è tardissimo ed è distrutto, non ha neanche la forza di mangiare. E qui avviene qualcosa, perché Andrea si rende conto che sta riuscendo a dimagrire. Quindi si mette totalmente nelle mani di Alexander. Diventa per lui un esempio da seguire. Durante il processo di Stefano Savi emerge che quel povero ragazzo è stato aggredito per sbaglio, semplicemente perché Martina quella sera non era presente. Lei non avrebbe mai sbagliato, non si sarebbe mai confusa. Perché tra Stefano e Giuliano ci sono 20 cm di differenza in altezza. Vuol dire che uno è alto 1,70 m e l'altro è alto 1,90 m. È vero, in ugual modo, che hanno dei tratti facciali che li rendono molto simili. Viene inoltre trovata una lista di nomi che, secondo il piano di Alexander, avrebbero potuto essere le prossime vittime. Su quella lista ci sono scritti nomi e cognomi di persone che avevano avuto a che fare con Martina. Durante il processo, peraltro, l'avvocato di Alexander gli dice che sono riuscite a recuperare parecchi file dai suoi computer. Quindi, se per caso gli vengono poste domande rispetto a dei video, delle foto, o di messaggi, dovrebbe rispondere in modo sincero. Cosa che, indovinate, Alexander non fa. Il PM, infatti, gli chiede Alexander, ha mai scarnificato la coscia e la guancia di Martina? Ha mai fatto questo gesto? Alexander puntualmente risponde Io? No, mai. Ma non mi permetterei mai, eh? Ma stiamo scherzando. Assolutamente no. Altra domanda. Lei, per caso, ha mai fatto bere la sua pipì a Martina? Altra risposta di Alexander. No, ma io queste cose non le faccio. Ma stiamo scherzando. Assolutamente no. Nel modo più assoluto. Altra domanda. Oh, ok. E si ricorda quando ha strozzato una gallina? Alexander ribatte di nuovo. No, non me lo ricordo. E sa perché? Perché non l'ho mai fatto. Passano due minuti e l'accusa mostra a tutta la corte i video di questi eventi. Mettendo Alexander chiaramente in difficoltà. Ma diciamo pure che Alexander si è messo in difficoltà da solo, eh? La cosa che mi lascia più attonita è l'avvocato che addirittura lo va ad avvisare in precedenza. Prima che inizi l'udienza. Proprio per prepararlo. Mentre Alexander se ne frega altamente e dice quello che gli va. In quei video è palese. Si vede chiaramente Martina soffrire. Basta guardare la sua faccia. Non viene obbligata con la forza, attenzione, ma con la manipolazione. Si fa quindi scarificare la faccia, la coscia, beve la pipì di Alexander. Inizia a dar credito a ogni sua idea. L'unica opinione che conta è quella di Alexander. Nella perizia psichiatrica Alexander e Martina vengono raffigurati come una coppia che si integra in modo simmetrico e armonico in relazione al piano criminale che portano avanti. Entrambi i soggetti presentano tratti manipolativi ed egocentrici. Nessuno dei due quindi manifesto un vero e proprio ruolo dominante. Anche se a mio parere il ruolo dominante ce l'aveva Alexander. Ma dalla perizia emerge che agiscono su un piano paritario ognuno con caratteristiche proprie. Dunque i due avrebbero agito assecondando le loro caratteristiche. Da una parte c'è Alexander con i suoi tratti di sadismo, ossessività e tendenza al controllo e al potere. Dall'altra parte invece c'è Martina che è una personalità con tratti borderline. La ragazza avrebbe soddisfatto il bisogno di stare a fianco ad una figura che in un certo senso le garantiva un riscatto sociale. Una vita forte, una vita intimamente libera, inserita chiaramente in un ambiente di successo. Stefano Savi credo sia l'essere più forte che io abbia mai sentito parlare. Dice di essere arrabbiato con la vita, non con loro. Stefano dice che se ti arrabbi con qualcuno che ti ha danneggiato seriamente, che ti ha davvero fatto del male, gli dai ancora più potere. Se invece non lo calcoli, se ti concentri sul tuo percorso di guarigione, gli togli potere. Il processo di primo grado per l'aggressione a Stefano Savi e le altre costituite parti civili si conclude con un giudizio di condanna. Alexander viene condannato a 23 anni, Martina viene condannata a 18 anni e infine Andrea Magnani viene condannato a 8 anni e 9 mesi di reclusione. Nel processo d'appello vengono confermate tutte le condanne del primo grado. La corte di Cassazione invece conferma l'impianto accusatorio, ma fa cadere il reato di associazione a delinquere. I tre dunque riescono ad ottenere un leggero sconto di pena. Alexander viene condannato a 21 anni, Martina a 16 e Andrea Magnani a 8 anni di reclusione. In seguito a questo caso il Parlamento introduce il reato di omicidio di identità. E qui ci colleghiamo alle mini riflessioni che vi ho fatto a inizio video. Cancellare il biso e quindi l'identità di un essere umano è un atto gravissimo. Infine vorrei mettere il focus di nuovo su Martina Levato, se vi ricordate lei era incinta di Alexander quando è stata arrestata. Questo bambino che di nome fa Achille nasce sabato 15 agosto 2015. I medici le inducono al parto, la sedano, la fanno partorire e alla fine mentre è mezza intontita la lasciano con il bambino per due minuti. Martina però in quel momento è stanca e neanche riesce a guardarlo in faccia suo figlio. Achille viene adottato immediatamente, non viene neanche dato in affidamento ai nonni. Questa questione ha letteralmente diviso le taglie a metà perché c'è chi considera una barbarie una situazione del genere. Mentre c'è chi è d'accordo sul non farle vedere il bambino mai, neanche una volta, neanche per foto. Ci sono carcerate che possono vedere i loro figli o quantomeno possono avere delle loro foto, anche per vederli crescere. Ma Martina è negato anche questo, non sa dunque che faccia abbia Achille, ne sa dove sia. Io sono molto dubbiosa su questa faccenda, lo ammetto. Fatico ad avere un'opinione e ci ha pensato a lungo. Però alla fine vedo questa situazione che deve vivere Martina e basta. Mi sorge una domanda, non c'era davvero altra alternativa? Martina, realisticamente parlando, ha ricevuto una punizione non prevista dal codice penale. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video, spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questa storia? Secondo me sì, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di questo caso. Detto questo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. O meglio, prendetevi cura di voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze.